Buongiorno, benvenuti nella segna stampa di oggi sabato 28 ottobre. Una cosa incredibile quella che è successa ieri al Consiglio dei Ministri in cui si doveva tra l'altro votare per la nomina di Ignazio Visco per i prossimi sei anni governatore della Banca d'Italia perché ormai il Presidente del Consiglio, Consiglio dei Ministri, capirete voi la Banca d'Italia e Mattarella hanno deciso di confermare Visco. Ma la cosa incredibile non è tanto e solo la conferma di quello che negli ultimi sei anni ha giustito il sistema creditizio italiano. La cosa incredibile è che cosa è successo ieri al Consiglio dei Ministri e lo capisco perché oggi i giornali non se ne siano occupati più diffusamente. Di un piccolo aspetto, cioè quattro ministri del PD che sono ministri che vengono considerati riconducibili a Renzi, non so se questo sia vero, ma di due sicuramente è così, cioè Lotti e Boschi e gli altri due sono Del Rio e Martina, quindi Martina non è cosiddetto che sia proprio un Renziano, non si sono presentati in Consiglio dei Ministri. Allora io mi chiedo e vi chiedo e vi faccio due domande. Due di questi ministri, cioè Del Rio e soprattutto Raboschi che è figlia del padre, che come tutti ben sapete era Vice Presidente della Banca Polaria dell'Etruria, che come tutti ben sapete era anche una delle banche coinvolte negli scandali bancari degli ultimi anni ed era anche una delle banche che Visco voleva, ce lo ricorda oggi Libero, sposare la Popolare di Vicenza che poi con Zanin è fallita e se stessa, cioè in questo grande pasticcio di parenti non si presenta Raboschi e sapete perché non si presenta Raboschi così come non si presenta Del Rio? Perché manda sostanzialmente un certificato medico, cioè stava male, aveva l'influenza. Allora io dico, questa è l'Italia, se i nostri ministri non si presentano al Consiglio dei Ministri perché hanno l'influenza, come possono i nostri ministri pensare che i lavoratori non si presentino al posto di lavoro con l'influenza o col mal di testa? Come possono pensare che l'assenteismo della pubblica amministrazione si riduca? Come possono pensare che la legge 104, che è una buona legge, è stata usata così male per cui al Sud tutti hanno un parente con la 104? Come possono pensare di fare polemica contro i medici che in maniera connivente rispetto ai fanno nullo, non danno i loro certificati di malattia? Questo è il paese dei certificati di influenza. Hanno tutti l'influenza quando non vogliono partecipare. In questa gigantesca bolla di ipocrisia Renzi fa fare al Parlamento una mozione del PD contro Visco, il segretario del PD Gentiloni fa nominare Visco e nel Consiglio dei Ministri i ministri del PD, alcuni ministri del PD fanno finta di avere l'influenza o hanno l'influenza e non si presentano nel voto determinante che peraltro dura 10 minuti, quindi vieni portato dalla tua macchina blu, dai tuoi segretari, forse anche in lettiga, per votare contro a casa mia. Se qualcuno vuole avere una posizione contro Visco, vota contro, non si fa prendere una diplomatica influenza badogliana per cui non si partecipa al Consiglio dei Ministri. Io la trovo una cosa incredibile, incredibile, perché dice giustamente qualcuno di voi, io vado a votare con l'influenza, io vado a lavorare con l'influenza, figuratevi un po' voi se una macchina blu che entra a Palazzo Chigi fa un paio di piani, fa votare per due minuti con 10 commessi che ti portano la camomilla, eccetera, per dare il senso di un voto contrario a quello, se tanto ci tenevate, come era giusto che fosse, votare contro. No, l'influenza, il certificato medico contro l'influenza. Il Corriere della Sera parla di certificato medico, il Fatto parla di certificati, altri dicono semplicemente che sono assenti per influenza. Bekis oggi sul libro ci racconta la storia di Visco, dicendo che è stato confermato il capo delle banche che le ha rotte. Insomma, l'idea che Visco per i prossimi sei anni non sia stato messo in discussione, mentre è stato messo in discussione tutto quanto a me sembra veramente una storia incredibile. Non dico di metterlo in galera, non dico di arrestarlo, non dico di condannarlo, dico semplicemente che almeno un'omessa vigilanza uno gliela deve attribuire, un cambio di passo uno lo deve fare, invece in Italia l'establishment vive, vince sempre. E comunque ci si è messo pure Renzi perché quello che tocca Renzi ormai oggi viene considerato una schifezza. Tanto che chi attacca Renzi è un fenomeno grasso che si dimette oggi, oh mi sono sentito violentato nel mettere la fiducia, sembrava Asia Argento. Grasso, ieri quando ha fatto questa dichiarazione sempre della Camera si parla, però è quella del Senato e non quella d'albergo e anche lui con quattro anni di ritardo si ricorda delle violenze, posto che Grasso di violenze ne ha subite tante. Per esempio la legge elettorale precedente a questa sempre ha avuto la fiducia, le tante fiducia che Renzi ha posto durante i suoi mille giorni di governo, l'atteggiamento di Renzi nei suoi mille giorni di governo. Solo oggi si sente violentato, si sente violentato e oggi la Guersoni, fantastica, sul Corriere della Sera scrive, giuro, ha strappato il sipario delle ipocrisie. E no! E non è possibile che uno a un mese dalle elezioni cambia partito e dopo che quel partito gli ha dato la seconda carica dello Stato e strappa il sipario delle ipocrisie. No! Lui è un ipocrita che ha tutto il vantaggio di mollare Renzi per diventare, come tutti i giornali oggi riconoscono, il leader di un partito a sinistra di Renzi. In più, ragazzi, ragionateci un attimo, l'altra cosa che mi diverte, ci si rifiuta, il movimento popolare si rifiuta, il MDP si rifiuta e non ama questa legge perché è una legge troppo verticistica e che cosa fa? Utilizza come leader un magistrato che ha iniziato a fare politica quattro anni fa e che fino a prova contraria non avrebbe dovuto farla prima perché faceva il magistrato e in maniera verticistica mette su un movimento popolare a sinistra del PD un magistrato che nella sua vita ha soltanto fatto la seconda carica dello Stato immediatamente. Un minuto prima di mollare questa carica si è candidato come leader del movimento di sinistra MDP. Ma è più di verticismo di questo che cosa ci può essere? È un'altra di quelle operazioni da salotto, quando voi vedete questa operazione di Renzi sulla sinistra capite che questa è la sinistra che siamo condannati ad avere. Andiamo su notizie forse un po' più divertenti, la Catalogna non la discuto perché è la solita storia, alcuni giornali, stampa, giornale, messaggero aprono sulla Catalogna, non mi va molto di parlarne perché finché non avviene qualche cosa, ha tolto Rajoy l'indipendenza alla Catalogna è sostanzialmente commissariata, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Big Data, stupendo sul Corriere della Sera, un pezzo sui Big Data perché cosa racconta? Una cosa fantastica e cioè che gli algoritmi delle compagnie aeree, ma non solo delle compagnie aeree, cosa fanno? Vedono da quale luogo tu stai comprando il biglietto aereo o il pacchetto turistico. Se sei in periferia e lo fai da un brutto tablet o da un vecchio computer ti fanno un po' di sconto. Se sei in centro e lo fai dal tuo computer d'ufficio in cui si presume che tu abbia un lavoro e che abiti in centro, che comunque è un lavoro in una zona ad alto reddito, allora lo sconto non c'è più. Questo dice un pezzo di Corriere della Sera a cui io penso che ci sia molta verità in quello che dice. Io per esempio quando voi andate sul mio sito nicolaporro.it, ma quando voi andate sui siti di qualsiasi persona, so perfettamente da quale piattaforma vi siete collegati al sito, con Google Analytics, so perfettamente con quale device, ovviamente io me ne frego di questa segmentazione delle persone, ma probabilmente gli algoritmi degli aeroporti, delle compagniere e non solo, hanno un grado di sofisticatezza nel pricing, nel fare il prezzo che ha dell'incredibile ma anche del preoccupante. Ultima cosa che vi segnalo ed è incredibile perché sono dal 1988, cioè da quando nacque il primo rating di Standard & Poor's, che è la più cattivella delle agenzie di rating, l'Italia sostanzialmente ha avuto, mi sembra che il primo rating era AA, solo downsize, solo voti negativi, cioè sempre un gradino in meno, gli faceva sempre avere un voto in meno Standard & Poor's. Per la prima volta in più di 15 anni che abbiamo invece un rialzo del gradino, cioè è successo ieri, i giornali non se ne accorgono. Io la trovo una cosa favolosa, tra l'altro noi rischiavamo moltissimo perché se avessimo perso ancora due notch, come si dice, due gradi di voto, due voti, saremmo arrivati in una categoria, un girone dell'inferno per cui il nostro debito pubblico sarebbe stato molto più caro venderlo. Invece siamo saliti di un voto, abbiamo preso un voto in più. Allora io mi chiedo, ma perché i giornali sono così pronti a urlare quando noi andiamo di merda e quando invece abbiamo un piccolo risultato positivo, delle odiate, tra l'altro, agenzie di rating non lo comunicano e non lo segnalano? Perché è la vecchia storia del giornalismo, cioè che la notizia cattiva fa rumore e la notizia buona ne fa molto di meno. Sulla zuppa vi segnalo Isabella Bufacchi che sulle questioni di rating e di debito pubblico italiano sul sole 24 ore mantiene un'expertise più unica che rara e comunque è interessante questo dato riguardo al piccolo elemento un po' più ottimistico del rating sull'Italia. Buona domenica, ci sentiamo domani. Ciao!